Ciao Giussi e ciao al pubblico di Centrocampo. Il personaggio della settimana è Giampiero Cannella, assessore alla cultura del comune di Palermo, ma anche giornalista professionista, quindi possiamo anche darci del tu. Assolutamente sì. Saluto il pubblico di Centrocampo e Giussi Randazzo. Allora, la prima domanda è d'obbligo, il tuo rapporto con il mondo del calcio. Il mio rapporto con il mondo del calcio è molto intenso. Ovviamente da giovane lo praticavo molto di più. Sono stato non soltanto un scarsissimo, ma appassionato giocatore di calcio, ma anche un passionale tifoso rosanero. Io andavo in curva, facevo le trasferte, ero un ultra dei mitici con Mando Saguila, che fu uno dei primi gruppi in curva nord. Adesso è un rapporto che continua ad essere molto intenso e che coltivo seguendo il Palermo settimanalmente. Quindi tu seguivi il Palermo anche quando eri in Serie C? Assolutamente, anche a Marsala, a Trapani, quando la favorita non era praticabile. L'ho seguito sempre. Mentre per quanto riguarda il Palermo di quest'anno, un tuo giudizio su come sta andando la stagione? Io credo che il Palermo di quest'anno sia tecnicamente una delle squadre più forti che abbiamo visto a Palermo. Sconta un peccato di gioventù. Io sono molto d'accordo con Delio Rossi, che ritengo il miglior tecnico che abbiamo visto in questa città, quando dice che noi abbiamo la squadra più giovane d'Italia. Quindi non stupitevi se a fronte di prestazioni eccezionali e di risultati magari sorprendenti, poi si perde o si pareggia una partita per l'ingenuità del difensore, piuttosto che per il gol sbagliato da Pastore o da qualcun altro. Insomma, sono giocatori molto bravi, con una grande prospettiva, ma che oggi hanno ovviamente i limiti di una scarsa esperienza. E quindi quest'anno dove può arrivare la squadra di Zamperini? Con il cuore dico alla Champions, con la razionalità del tifoso che cerca di essere obiettivo. Ritengo che il piazzamento UEFA sia sicuramente un obiettivo alla portata del Palermo, ma ancora di più sarei contento se facesse ancora tanta strada e quindi significa vincere in Coppa Italia questo trofeo, anzi la Team Cup, oggi si chiama Team Cup, questo trofeo che sarebbe effettivamente un bel risultato. Quello lo considero un obiettivo alla portata. Mentre c'è un giocatore che ti appassiona di più degli altri, quello che segui in maniera maggiore ogni domenica? Sì, sicuramente ci sono moltissimi giocatori interessanti e di prospettiva che è fin troppo facile scontato. Uno che mi ha sorpreso e mi dispiace che abbia avuto questo serio infortunio è Piniglia. Se dovessi votare per un giocatore preferito, anche per la simpatia che trasmette questo attaccante che aveva una grande prospettiva, poi si è perso e quest'anno a Palermo aveva dimostrato enormi qualità. Ha fatto cinque golle in pochissimo tempo giocando spezzone di partita e davvero si era imposto all'attenzione come un giocatore capace di fare il reparto da solo. Un giocatore completo, grande tecnica, grande coraggio, grande forza fisica. Ecco, il mio giocatore preferito è Piniglia. Quindi lo stiamo aspettando questo infortunio. Attendiamo con ansia che rientri. Poi meritano, devo dire, tutti un plauso dal cuore di Balzaretti alla tecnica di Miccoli, alla fantese di Pastore. Insomma, è una bella squadra, una squadra bella anche a vedersi. Un'ultima domanda è d'obbligo. Cioè, il rapporto tra il Comune e la società di Maurizio Zamparini? Il rapporto è buono, anzi ottimo. Tant'è che Maurizio Zamparini su Palermo ha fatto dei programmi ambiziosi. Non ultimo, anzi, il principale è quello della costruzione di un nuovo stadio. Solo che esistono una serie di problemi burocratici, di problemi anche legislativi, che vanno affrontate in sedi che non sono il Comune e l'Amministrazione Comunale di Palermo. Quindi tutto quello che è stato frapposto tra il progetto e la realizzazione, diciamo, richiede soluzioni che non sono a Palermo, ma sono soluzioni, appunto, romane, parlamentari, sulle quali comunque la classe dirigente palermitana sta scommettendo e sta mettendo tutto il suo impegno affinché Maurizio Zamparini continui a considerare Palermo non soltanto la sua città d'elezione per l'investimento calcistico, ma anche la città sulla quale investire risorse per lo sviluppo della città e anche, ovviamente, dei suoi legittimi interessi. Grazie per l'intervista e magari una settimana di queste ospite all'Otel San Paolo. Molto volentieri, molto volentieri. Ringrazio voi e saluto il pubblico. Ok, d'accordo, grazie.